Edoardo Cosenza, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Allora, ingegnere, un tour dei campi Flegrei per parlare della sicurezza innanzitutto e anche dei materiali da utilizzare per eventuali costruzioni nell'area che sappiamo tutti quanti c'è il brasilismo. Sì, i colleghi della zona di Pozzuoli hanno fortemente voluto questo evento culturale formativo. Qui c'è una grande sensibilità verso il problema vulcanico, ma anche il problema sismico. Poi sono collegati, sono tutti collegati al brasilismo. Adesso esistono strumenti molto efficaci per i cittadini perché col sisma bonus possono riavere fino all'80-85% dei costi dei lavori di messa in sicurezza degli edifici privati, fino a 96.000 euro ad appartamento. Quindi un'occasione davvero importante per una zona così bella, ma anche così a rischio sismico e vulcanico. E quindi è proprio un intero corso dedicato a questo. Si parlerà delle tecniche innovative, del sisma bonus, della classificazione del rischio sismico. Ci saranno esempi di progettazione. Cioè metteremo a disposizione dei colleghi tutte le nostre conoscenze affinché si diffonda sempre di più queste metodologie di rinforzo sismico o addirittura adeguamento sismico. Tempo fa si parlava di un registro dei vari fabbricati e fare edifici per sapere un po' la storia e quando si è intervenire. Che fine ha fatto? Sì, si è arenato tra burocrazie varie, però per me il sisma bonus è superiore perché il cosiddetto fascicolo del fabbricato semplicemente descriveva il tuo stato di salute ma se non stavi bene non diceva niente. Invece adesso col sisma bonus c'è una descrizione dello stato di salute, la cura viene completamente pagata all'adeguamento sismico e poi c'è il nuovo fascicolo una volta che è stato messo a posto l'edificio quindi io trovo che è importante il fascicolo del fabbricato ma molto più il sisma bonus perché c'è anche la cura della malattia. In questo momento il brasilismo a Pozzuoli anche se lentamente si solleva quindi gli ingegneri devono guardare con attenzione questo problema? Sì, nel 2012 quando fu dichiarato lo stato arancione cioè da base si passò l'attenzione, ero io l'assessore della protezione civile regionale quindi ricordo bene quell'anno. Sì, continua questa salita e bisogna stare attenti però appunto siamo a livello invece che base attenzione ma siamo probabilmente lontano dalle soglie più elevate che ricordo sono preallarme e allarme però è proprio in questi momenti che bisogna agire.